oggi siamo sul telefono cartico siamo con chancar cottero min che mi va bene il draft min che adesso vedremo ma si inizia ma è giusto cosa femmine friendly no io ho fatto oggi siamo con sancar a me è uscita una cosa bella bella sì che non sono disegnata ma c'è tipo me si torna in via ok così ok se vedete dei cosi dei piselli io ho iniziato adesso ma corti lo sa scrivere c'è anche marshmallow che si chiama min min tipo tipo in tangenzia il suo nome è tangenziale circa immaginate che cotto era fatto il migliore di tutti mo che manco sapeva cosa doveva fare e che non sapeva leggere ma coccano qualcosa l'ha fatta almeno io ho messo pronto dai chi è l'idiota che non ha finito san carlo che si vede il disegno guardare maledetto ma cos'è che cosa è questo l'ha fatto cotto e lo so sicuro io ho fatto io e non posso dirtelo io ho fatto io ho scritto bene il film è un bel nome cosa è uscito a me io ho fatto hanno petto non ho fatto anche una cosa che scatta a me è uscita oddio fatto è perfetto in anzi faccio anche una faccia visto che ormai ci sono c'è tanto ne ha fatto ma non aggiungo altro secondo me io scommetto che l'ha detto che l'ha detta sankar questa parola che mi è uscita dico se mette una cosa c'entra un piccolo anche la danza c'entrava e sankar allora il suo allora mi sa che è dimasciamello a sto punto ha scritto il nome mio apposta cosa ma quale nome c'è la piccola sancare il cinese perché non lo sapesse sancare non mi mostrerà la faccia in pubblico ma un'altra cosa in pubblico io ho messo pronto allora è quella mi chiono fatto ho capito questo cos'è questo è bellissimo no 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 aspetta eh però aspetta mi sa che è volgare io ho messo pronto io ho messo pronto io ho messo pronto ma perchè sancare biondo è il mio disegno ah mi ha fatto un tiro si è l'ultimo il tempo sta scadendo e lei sempre e lei sempre il tempo sta scadendo eccolo e parte con la mia a iniziare no aspetta ho messo auto mi sa io ho scritto sancare scima fumo una canna e minchi è perfetto è lasciato per mangiare piccosa ecco quello io non ho i capelli russi ma questo è proprio no ah frainteso i piccoli ma questo è più scritto prossimo andiamo a cercare un'elicottero ma si ma cosa scrive ma te lasso cosa hai fatto ma io ma io ma io ho fatto questo ma io ho fatto questo mi sa si ho fatto questo no mi dice come è vicino a me sancare ascolta la musica prossimo dai prossimo dai è di sancare anche quindi ecco sancare 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 tipo l'album porn io ho fatto un mincino ma questi c hai detto ma questi cacchi sottine ninja dimmi che non ha detto una ma questo cacchi sottine ninja ma che cos'è ma per questo che è uscito a noi tu che dice Doncar non c'ha le spalle a forma di piedi si ma senza essere avanti questo te l'ho fatto io per essere uscito da me cosa hai fatto ho fatto shadow che ce l'aveva e sankar sono pervertito oddio questo è uscito a me e l'ho fatto giusto sankar nudo a il dato vai prossimo round bellissimo direi beh che mi esce unicorno sporco che piange io lascio queste è troppo bella no lo stia fatto la mia è perfetta non la indovinirà nessuno è troppo lunga fatto si entro oggi si immagina dove ha scritto di buonanza tipo chi lo scopai di nuovo sta minchiona non si può chiamare minchiona colta family friend questa cottero meta la scuba sarebbe tipo sub per caso è quello che va in acqua quello che hai scritto tu c'è tra quelle parole ma che c'è si è la tua ok c'è un camon gas è un attimo che lo faccio no no di come nella parola c'è si ok allora si è la mia cosa stai facendo sankar quel tipo una ha fatto una pornotrice è lunghissimo cosa lunghi avevo detto che era una cosa porno è un momento al colore eh sankar basta porno ti prego ah mi commenti hashtag samuel basta sankar basta porno io ho fatto io ho provato a fare cosa è il migliore che ho capito io ho quasi vabbè hai fatto di carne hai fatto anch'io no per della francia è l'italia ma d'aria ma c'è il blu scemo il mio lo pare un po il mio pare un po ciò che hai detto visto no il mio pare una cosa bruttissima lo posso dire per una cosa molto brutta quella mia è uscito è vero è uscito perché si è uscito è uscito è uscito è uscito dopo rientra prossimo round isdraft dimmi che non è un bestemmione ti prego adesso ha bestemmiato i staff di guardare ceccotti ma non vederti me spero non c'è una bestemmia adesso è che ti arrivo un po vabbè si fa quando ma cos'è ma dai hai fatto sa no allora sa anche no 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 ma me l'ha fermato no no fatto fatto io non sapevo che altro a fare questo è di cottero 100 per cento vieni qui cottero e dimmi dimmi l'hai fatto tu questo lo sapevo lo sapevo ma il mio disegno c'è un pisellino che rollo non vedo un disegno con uno stick ma che non c'è solo un pisellino pronto ma questo che ha fatto che ha fatto il pompiere francese aspetta adesso devo fare qualcuno mi c'entra col penne qualcuno l'ha scritto o qualcosa che c'entra col penne io con i capelli io è vero sei tu schifoso l'ha fatto israeli l'ha fatto a cottero il disegno l'andro sbaguette cos'è questa frase no 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 un pedo da porno eh segnalo va bene noi siamo un settimo contro noi porno eh aspetta no non fraintendete sa anche al riguardo noi no di solito no non puoi spiegarti sei tu quello che c'entra col tutto è vero non mi fa leggere sta merda oddio mi ha fatto la bandiera ma mi ho posto ma si può leggere ma si può dire si che si può dire Giorgio Giorgio vuole il ciuccio suo vabbè Giorgio puoi entrare Giorgio fattene eh e che ne so c'è il mio e saldi là ah Giorgio che rompi chiudi chiudi l'hai capito tu c'è il mio si chiudi tu c'è il mio zitto chiudi chiudi Giorgio 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 quasi fa no appunto no sto a perdere Giorgio comunque devo fare una pompa no no che hai capito dove l'ho fatto oddio ancora peggio è ancora peggio cos'è questa cosa che è appena successa è successa una cosa brutta no devo finire almeno la bandiera fatto pronto ok fatto fatto e non lo so vai di là no no fatto qua vuoi stare pronto all'ultimo vuoi stare qua e che ne so ma cos'è questa è quella fatissima sulla chiesa io ecco un attimo ecco no no e non lo so dove è probabile è probabile dai sbrigare aspetta non urlare Giorgio dai che perché c'è Giorgia che rompe le scatole chi non ha il mio album il mio album perfetto io ho scritto vado banana youtuber che gioca non è bellissimo non è bellissimo è bellissimo vero o no 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 fa schifo e mo banana che gioca la play among us l'ha capito e io ho fatto questo ma c'è il psa ps4 cottero voto chi ha fatto il voto nessuno cottero cottero è uscito non è porno questo è porno questo è un'estrusione a top fuoco con l'unculele il fuoco con l'unculele come siamo partiti da sats a fuoco con l'unculele senza apostrofo tra l'altro vai zangar il set 1 l'ho rovinato minchiona ce l'ha per me ok adesso chi ha minchione cottero questo l'ho fatto io l'ho fatto io e lei ha un pene con i capelli che si cancella questo sono stato io guarda cosa fa quella è la gru e la gomma si fare un'altra cosa minchiona cosa dici un oene con un coltello in mano almeno ho scritto il coltello comunque non è un coltello ma mi sembra una sposta esatto vai minchiona compiere questo mi esce da me questo no aspettate ok ma cosa questo è vicino anche a me però vuoto quindi è uscito a me lo stesso di Anna cosa non è un bannato su scritto guarda lo devo dire ma non mangiare che esce dal cosa esatto non fa piccola con una bandiera no con una bann perché va bannato ma c'è laio nudo ballo in chiesa oh mio dio spero non sia una bestemmia no è stato riuscito anche a me a moncaz cosa cottero vuoto a me è uscito questo eccolo ma in altro round che che si può fare entra cottero cottero entra 5 ore dopo 2 mila ore dopo è entrato il ricchio ok ottimo anche la mia la mia è la migliore la mia è la migliore no no è la mia anche se non c'è cosa vuol dire pettine è qualcuno che parla le spalle di qualcun altro perfetto allora Giorgia allora l'ho messo fatto fatto a buscare ma questo è di è di cottero non lo so cos'è sto robo zitti no 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 io non accetto di disegnare stavo robo fatto disegna tu cioè perché devo disegnare c'è la mia sembra è va bene si vuole una bestemmia in russo sarà però va bene fatta da cottero cottero è russo ma ma micchiona eh tu sei no micchiona il colore è chi è luce in che senso è bianca no 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 è nero sanca è razzino ho capito sanca è rosso sanca è riuscita nella mia ho capito c'è comunque la mia sanca è riosso ma non so chi è minchiona no sanca è verde ecco cosa è verde il strafter rosso io mi so fa sempre il battere rosso tu sbagli no perché sanca è rossi ma è rosso il strafter non c'è ma devo fare una cosa devo fare una cosa devo fare una cosa è blu è blu è anche cottero vero vero è arancione mi cazzo mi cazzo ha fatto lui rosso tu arancione ma tu sei il verde comunque non in caso ma tu vabbè comunque che cacchio è quello fatto io che cacchio è minchiona secondo te chi è minchiona ma che colore è il rosa mi sembra brutto come ti pare fare una cosa lunga rosa mi pare brutto esatto dai però spiegati la faccio tu fa pure tu ma metti il pronto io ho fatto non so minchiona dai san carina minchiona cacchio metti tu no è san car che non ha fatto pure minchiona ma che ne sai ci sono tre sui cinque minchiona minchiona è sempre bello esatto dai cazzo dai cavolfiore tempo scaduto so no tempo scaduto oh no ma che bella sta cosa ieri oggi domani questo è c'ho darwin ieri oggi e forse anche domani questo è fatto fatto manna all'ancione della modifica ho scritto mangi invece mangio comunque shadow detto so che è tua perché te l'ha dalla mattina se tu hai fatto un punto interrogativo quindi ho indignato sì ma pronto vai è fatto tanto che ha scritto qualcosa cosa è sta roba che ha scritto io non lo faccio salgar che ha scritto lo so che l'hai fatto tu e questo era ma non mi sono mai fidanzato con minchiona questo l'ho scritto io però e quello era il disegno minchiona forse indica che in case draft non c'ha la minchiona vabbè minchiona in un altro mondo in un altro universo io sono sposato io sono sposato anche se a due anni me la no tre anni lui ha quanti anni dieci si tre anni minorenne cosa niente esatto io ho fatto mancano e basta c'è di colpi chi è l'ascito cottero cottero no e perché adesso sono pronti tecci ah perché tu vengono dalla modifica metà no che bello che bello che bello ok ok è tornata bellissima la minchia chi è che manca oh cosa eh che schifo è fatto da qua usciranno tante a me gli scusi più robbi col vomito no anche questo da quello che ho scritto io no che cosa le merde disegnate proprio no da te è finito ah ok ho scritto con due n no è di pronto ma ho messo una n in più fatto minchiona mi hai rotto la minchia ah adesso è cottero immagini no ah si parte finalmente presentare era bello però questo questo era bello ma ma cotto no no minchiona no si scriveva a me questa uscita guarda che hai sposto scritte è giusto non le scrivere almeno non ho scritto niente siamo partiti da che giochiamo tutti insieme a calciforna a scritte che c'è guarda che c'è guarda che c'ho dovuto fare guarda che c'ho dovuto fare sono tu sono tu sono tu ma questa minchiona la mia nanna spero che tu non guardi questo no 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 ma si che ha fatto la risposta a tutto no non ci sto pensando ma adesso cavallo che ammazza pezzola e se lo fa ecco cosa fa e questo e minchiona guarda i griffin i cavalli sono personali ma che cosa 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 questo è il cotto io ho detto socculi fuori incolorati vomita che vomita vada dicendo poliziotto petecolo discoteca a fare cosa ma che ha scelta ma che ha fatto questo questo adesso mi ha scritto cubi e io ho fatto tanti cubi e cerchi uno sta in gabbia tu hai fatto questo e io ho messo geometria il tuo incubo ma che cos'è cubi e cerchi tu che cosa hai fatto ho fatto adesso vuoi vedere che cosa si trovava l'ultimo è quello di corso è stato l'oasero ma che è c'è da chi ha raggiunto ma che è scegli da me ma che è da me e questo è uscita ma cos'è coglione è giusto è difficilissimo da capire è giusto io ho messo questo questo è l'enigmi e bastone dell'enigmista che cosa appunto è terrorista ma io vai l'ultima ragazzi ho paura di una cosa non è vero non ho mai detto l'ultima bellissima e adesso io sto chiedendo Giulia ho messo una cosa la mia c'entra con Giulia e oggi mi manda il miaccio di morte non so sicuro la mia c'entra con Harry Potter e c'è anche il mio e mezzo e tu hai scritto Giulia? no ho fatto una parte in cui c'entra Giulia e stasera mi ammazza non è che mi inchiola per il disegno di prima? eh? non è che mo' mi inchiola si incazza per il disegno di prima? ma stigano ha una tranniera no no non mi distraccio shadow mi ammazzo la mamma shadow ho fatto ho fatto la forza sì fatto io ho fatto scusami Giulia fatto a me le scusate voglio mettere inizio te e minchiona pensa no io ho scritto te e minchiona però eh appunto vabbè vabbè vatti a fare Giulia a sto punto io ho fatto comunque un attimo mi sto facendo ma no è bello scusa anche per il disegno ma per il disegno se vi a dire ho fatto bello perché è celeste non blu perché non è lui è celestino non è corso ok io ho finito hai fatto hai fatto un attimo mi scommetto non sono negra no si è fatto la minchiona ma si è fatto la minchiona ma si è fatto la mashumelo si è fatto ho messo pronto non è vero ah no si è giusto hai messo pronto ero io perché non l'avevo messo pronto ma sei zitto ma sei un finocchio ok ciao cotto lascio così io anche lascio così cioè ormai ho rubiato tutto però lascio così guardate non me ne vede niente la droga ok eh cosa hai detto cortino la droga giusto è quello che sancar sta a fa scommetto minchiona no non è successo hai fatto sancar negro ho io sancar negro è un po' però pure un po' storto la visita ha fatto sancar negro di whatsapp secondo me ha fatto la chat in con lui giù dai che manca poco non fa poco scemi e mi chi è che chi è che secondo voi ti ero con me chi è che è sempre io cioè che siete finendo sancar esatto appunto di disegnare un ca come ho fatto sembrava un coso ok coso come si chiama quello che fa chi vuole essere un milionario no giri scotti giri scotti ma che ho anche mio contesto contesto è rivelato sancar no vabbè no dai posso mettere una parola sola una parola e basta vabbè però non sai già quale è la tua risposta per la parola sola anzi no tiziano spero che tu possa perdurare chi per quello che ho fatto chi giulia si è che va a trancione a lei invece che a te siamo grandi amici ci scriviamo cose brutte non ci scotti no non è vero non mi incuri ma eh cosa cosa devo fare qui non so è la cosa ho fatto una domanda orribile però ok parla di sesso no vada al sesso è vero a me devo uscire un po' ma io non c'è il pezzo dai oh no ma avete sentito dire io la faccio piccolo io la faccio piccolo io la faccio enorme ho fatto il contrario io la faccio io la faccio un oltre in effetti poi nel video lì in cui sa anche alene lui era nero in effetti ho messo brutto io io no è il minchior asciano perché manca fatto 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 oh mio dio benedetto spero io scendo il video spero che non sia a me è uscito una cosa peggio immagina immagino chi è che la devo fare c'entra col cottero la mia si allora c'entra la mia è il cottero per me con questa cosa c'entrano io e Giulia vai che ficca no aspetta ma c'è un cuore in mezzo si è giallo con la destra no è rosso allora no non è mio è questo fatto fatto e sti cavoli mai si parte io ho scritto sancare Giulia vanno è fatto bellissimo ha fatto sanca tanto bellissimo e' pepepe pigra minchiona uomo vince il dragon di una donna ma non hai visto che cosa mi hai visto e' questa è una femmina è una femmina ma è una minchia per il nero con i capelli c'è quello esatto sanca io li indovivo sempre ma con la Q ma con la KKQ minchiona ma sono noi perché c'è due domande ho due domande ho due domande ho due domande mi chiodo in cinta ragazzi mi chiodo in cinta zitti tutti due domande uno perché siamo nuti due perché hai fatto le tette di sanca ma cosa ho fatto io mi chiodo in cinta scusa questo lo dovevo fare io ma almeno chiedi scusa no è la verità non devo chiedere io scusa è la pura verità dunia no no basta no vai minchiona è finito si è finito vai mattina questo mia mia un pochino ha cotto questo l'ho fatto io guarda 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 zitti lo tigre andare vicino è il posto che si assi ok ok porno lo sapevo lo sapevo non è non è mi stavano baciando quella lingua perché non è è il mione è il mignotone hanno senso nudi persone hanno senso successo hanno scritto io l'altro non è ne ho accorto dai io sto scrivendo ecco no mi sono avvenuto l'evoluzione perché tu che scrivi io e giulia fa vedi che lo vuoi no io l'ho prima all'abundico io l'ho pensato prima di mattia no mattia no io l'ho pensato prima di inserire il tuo album a mattia no io ho fatto un mattia non cotto il rom ma mio cugino perché lui non è blu mai celeste quello mi sonnò non c'è quello che mi ha scritto a me guarda cosa ho dovuto fare cottero non c'è è andato via cottero fa cose con l'azia minchia dove se ne fanno sesso io io mi sembra che dovuto fare questo basta per favore alla prossima non c'è